Sale l'attesa per la finale play-off di Serie C. Domenica alle 17.30 davanti a 4.600 persone, Carrarese e Vicenza si contenderanno la promozione in Serie B allo Stadio dei Marmi. La classica partita della vita non solo per i ragazzi di Mister Calabro ma per un'intera città. Lo dimostra la caccia al biglietto che in questi giorni ha intasato rivendite e web. I primi 3.000 tagliandi sono andati a Ruba in un paio d'ore nel pomeriggio di giovedì. In serata la sindaca Serena Arrighi ha firmato la deroga per l'aumento della capienza di 800 posti. Venerdì mattina alle 11 sono state riaperte le vendite ma i biglietti disponibili sono andati polverizzati in 20 minuti. E proprio la gestione dei tagliandi è finita nel mirino di feroci critiche sia perché agli abbonati non è stato riservato alcun diritto di prelazione sia perché il sito per l'acquisto online è andato ripetutamente in tilt. Adesso però quando mancano ormai poche ore al fischio d'inizio il tempo delle polemiche è finito e Carrara aspetta col fiato sospeso. Ciao! Ciao!